Ok, secondo giro, prova speciale in linea, 3, 2, 1, vai! Questa è la parte più insidiosa, andiamo più tranquilli senza prendere rischi, adesso la faccio diversa da prima, siamo fuori dal fango Via, single track E' comunque insidioso perché si scigua Via, 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 via! Via, 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 via! Via, 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 via inizia la parte secondo me più adatta un po più veloce, un po più larga un po più rischio come prima parto un po dietro va bene si è discesa tranqui in altra parte lenta da prendere con le dovute precauzioni qui c'è saltato il posto via tunnel qua di sopra qua pietra in discesa viscile la tengo e andiamo via così qua abbiamo trovato prima via via bisogna solo avere le braccia e il pelo di tenere aperto via 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 va via Ale ottimo anche il comportamento del mono dietro abbiamo tentato prima di partire ma adesso mi segue molto meno cerchiamo di non fare errori un po' lungo via 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 questa Quasi finita Quasi finita